Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Un lutto improvviso ha colpito nuovamente il mondo del cinema italiano. Una perdita inaspettata, arrivata come un fulmine a ciel sereno nei primi giorni di settembre. Dopo un'estate decisamente da dimenticare, in cui tanti volti noti del mondo dello spettacolo, del piccolo e grande schermo sono venuti a mancare. Ecco arrivare l'ennesima notizia che ha lasciato tutti i suoi fan sotto shock. Sono state molte le pellicole di successo a cui l'attore ha recitato. Tra i tanti film Non possiamo non citare Pinocchio, diretto da Matteo Garrone e in cui l'attore che ci ha appena lasciati ha recitato al fianco di Roberto Benigni e di Gigi Proietti. Nel film in questione, Claudio Gaetani interpretava il burattino Arlecchino. Civitanova Marche piange la scomparsa di un grandissimo attore, spentosi a soli 46 anni. Per un malore improvviso, un infarto, stando a quanto si apprende dal resto del Carlino. Claudio Gaetani, proprio in questi giorni, era impegnato nel ruolo di protagonista in un nuovo spettacolo, L'ombra lunga del nano. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.